sono del dipartimento di studi femministi dello spritzer college voglio assumere un mercenario per un compito molto rischioso mi chiamo empil sono un pazzo ex veterano del vietnam che ora è al servizio del miglior affare so saccheggiare violentare e napalmizzare occhi chiusi un intero villaggio del sud est asiatico sono uscito il ninja più letale dell'universo silenzioso demone della morte grande maestro nell'uccitele se desideri un mercenario che non fallisce mai io sono il migliore il terribile vendicatore mascherata è qui campione del mondo di wrestling e sollevamento pesi a me non servono armi per colpire posso stritolare un uomo a mani nude li schiaccio tutti quanti li spiace due li accartoccio come lattine guarda qua allora che ti serve bella vuoi nuclearizzare qualche piccolo villaggio penetrale una foltezza impenetrabile vuoi che un intero esercito venga demolito mi serve un accompagnatore nella giungla degli avvocato la giungla degli avvocato già voglio incontrare le donne piragna sono desolato signora dopo domani a una seduta al circolo dei veterani magari un'altra volta dimenticavo che ho da fare al cinema qui dietro danno i sette samurai quindi vai vai a pensarci bene dovrei dimagrire ho un po di rotolini non mi sento in forma per un viaggio nella giungla che questo ti serva di lezione banni prova a prendere un branco di energumeni violenti e imbevuti di maschilismo e a metterli di fronte alla dura prospettiva di affrontare una vera donna ti garantisco che li vedrai darsela gambe correndo come il vento